Novena all'Immacolata Concezione di Maria Primo giorno La seguente novena si prega per nove giorni consecutivi, senza interruzione, dal 29 novembre al 7 dicembre, in preparazione alla solennità dell'Immacolata Concezione, e ogni qualvolta si vuole onorare l'Immacolata Concezione di Maria. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sequenza allo Spirito Santo Vieni, Santo Spirito, manda noi dal cielo un raggio della Tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo, il cuore dei Tue fedeli. Senza la Tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona i Tue fedeli, che solo in Te confidano, i Tue santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Credo, simbolo apostolico. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, pattì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discesa agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, sieda alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Primo giorno O Dio, Padre buono, che in Maria, primogenita della redenzione, ci hai dato una madre di immensa tenerezza, apri i nostri cuori alla gioia dello Spirito, e fa che a imitazione della Vergine impariamo a magnificarti per l'opera stupenda, compiuta nel Cristo, tuo Figlio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, com'era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Immacolata Concezione, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.